Ci sono delle persone in questo mondo che solo quando le guardi e le senti parlare ti danno l'ispirazione per metterti sulla tazza del cesso a cagare, ti ispirano. Se non vai bene di corpo è bene che tu prenda queste persone, le metta davanti a te quando sei sul water, queste persone ti aiuteranno, queste persone così infami che non meriterebbero neanche di esistere, non meriterebbero neanche di respirare. Sono nella realtà sì ma sono anche sui social, ce ne stiamo accorgendo in questi giorni. Questa gente squallida, questa gente marginata che vive dentro le loro camerette come dei topi rintanati in cameretta dietro una tastiera, vigliacchi che non vogliono farsi vedere e poi attaccano, si sentono forti, si sentono così forti ad attaccare da dietro una tastiera, questi topi di fogna. Bisognerebbe ristabilire i lavori forzati per questa gente, per questa gente che è capace solo di spargere zizzania sia quelli della realtà e sia gli emarginati di YouTube e degli altri social che vanno nelle live a divertirsi, a spargere zizzania. Non vale neanche la pena di pensarci, è gente talmente squallida, talmente minima che li puoi calpestare tranquillamente come bacarozzi e neanche te ne accorgeresti. Però sarebbe bello ristabilire i lavori forzati, metterli a lavorare con la zappa in mano dalla mattina alla sera. Vedi che gli passa la voglia.